La provincia di Frosinone, dopo aver sfondato di nuovo la quota di 200 casi positivi giornalieri, è ormai sotto la lente di ingrandimento. I contagi risalgono ai livelli di dicembre. L'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, ha messo in chiaro infatti che la cioceria è fortemente attenzionata. Istituita, come sappiamo, la zona rossa torrice, ma vuoi per lavoro che per la scuola gli spostamenti sono davvero eccessivi. E così Frosinone alza la guardia. Il sindaco del capoluogo, Nicola Ottaviani, sottolinea l'elemento di assoluta illogicità e incomprensibilità costituito dal fatto di permettere lo spostamento di 200-300 studenti al giorno verso le scuole della città di Frosinone, aumentando a dismisura la veicolazione delle possibilità di contagio. Se così fosse, la città di Torrice diventerebbe una zona arcobaleno al posto di quella rossa, tuono Ottaviani. Stando ai bollettini diramati dall'asla di Frosinone, nei giorni scorsi ci sono altri comuni ciociari che si sono distinti, loro malgrado, per numero di neopositivi, come Montosan Giovanni Campano, Isola dell'Iri, non da meno San Giovanni in carico. I sindaci esortano i cittadini a porre attenzione alle disposizioni impartite e al rispetto delle regole per evitare nuove zone rosse e rivolgono una raccomandazione particolare alle persone positive di restare in casa, lo stesso dicasi per i familiari conviventi che devono stare in isolamento fiduciario.